un saluto benvenuti a tutti di nuovo sul canale da simonetta carissimi e carissime amiche e amici benvenuti oggi andiamo ad apprendere un rituale della magia degli zingari della magia sigana quindi un rituale di legamento un rituale molto 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 potente quindi fatelo solamente se siete certi che quella persona vi piace molto che quella persona vi vi prende molto che amate quella persona non lo fate solo se avete un piccolo interesse perché può dare risultati veramente veramente forti e ed è molto difficile anche di sfarlo quindi andiamo ad elencare ciò che serve allora intanto noi prendiamo una nostra mutandina o slip quindi nel caso siete donne prendete una mutandina un vostro slip nel caso siete uomini potete prendere un boxer una mutanda ovviamente senza dimenticare che questo lavoro può essere fatto donna per uomo uomo per donna quindi l'uomo userà le sue di mutande donna per donna e uomo per uomo non c'è nessun problema le mutande devono essere indossate e quindi devono essere non sporche nel senso di usare una mutandina sporca però dovete già averle indossate diverse volte quindi lavorate con una mutandina o una mutanda o uno slip quello che è già indossato e lavato in modo che abbia la vostra energia un pezzetto di carta un piccolo pezzetto di carta non importa dimensioni esagerate una penna è colore non ha una grossa influenza quindi una penna blu rossa verde nera non c'è nessun problema io ho preso una penna blu un pochino di zucchero che vedete in questo barattolino e il vostro profumo preferito il profumo che usate normalmente del profumo e poi munitevi mi raccomando di un barattolo di vetro con il coperchio un barattolo chiaramente lavato ripulito di quelli che si riciclano anche in casa non c'è nessun problema poi se volete comprarlo nuovo lo comprate anche nuovo basta un barattolo di vetro di medie dimensioni un barattolino di vetro allora come facciamo mentalizziamo molto bene la persona che vogliamo legare a noi che vogliamo conquistare che vogliamo appassionare mettiamo che questa persona si chiama giorgio basta solamente il nome io penso a questo giorgio quindi voi scrivete tre volte giorgio pensando fortemente a questa persona io scrivo anche qui giorgio per tre volte sul foglietto scrivete il nome della persona quindi per tre volte 123 il nome giorgio mentre lo fate mi raccomando pensate fortemente a questa persona poi cosa fate andate a scriverci sopra quindi sul nome che avete scritto il vostro nome io scrivo simona sopra il nome giorgio o il nome che vi interessa quindi fate uno scarabocchio scrivete sopra il vostro nome in questo modo non importa se non si vedrà bene dovete sovrastare con il vostro nome il nome della persona che volete legare esattamente così poi cosa facciamo andiamo a piegare cinque volte il nostro foglietto 1 2 3 4 e 5 lo piegate cinque volte perché questo è il numero che serve per questo legamento e avrete un piccolo fogliettino cosa fate a questo punto prendete la vostra mutandina e nella parte interna quindi la parte che c'è a volte anche questa piccola taschina in genere ce l'hanno tutte le mutande questa taschina voi inserite dentro il foglietto poi se la mutandina o la mutanda non avesse la taschina voi sistemate ugualmente all'interno nella parte del cavallo della mutanda il fogliettino magico e andate a piegare con cura la mutanda lo slip quello che è in modo che non che rimanga dentro il fogliettino facendo un piccolo rotolo e andate a piegare il più possibile questa mutandina ecco fatto in questo modo durante tutta l'operazione siate concentratissimi sulla persona che volete legare prendete il barattolo di vetro e mettiamo dentro nel barattolo la mutandina o lo slip o quello che è spruzziamo il profumo quindi voi spruzzate un po di profumo tipo tre volte 45 quello che vi sembra voi il vostro profumo e aggiungiamo tre cucchiaini di zucchero sopra questo feticcio 1 2 e 3 sono sufficienti è come sempre detto lo zucchero un poderoso attrattivo chiudete il barattolo concentratevi potete anche agitarlo un po questo barattolo concentratevi sulla persona vedete la come già tornata vedete l'appassionata vedete la legata a voi vedete la che viene a cercarvi vedete la che vuole stare insieme a voi vedetevi insieme vedete tutte le immagini e a parole vostre potete anche dire per esempio Mario in questo momento io ti lego ti lego la mente il cuore l'anima i sensi e ti lego a me ora e per sempre potete usare parole di questo tipo tu adesso sei mio il mio dominio tu adesso mi ami tu adesso sei appassionato per me tu adesso mi cercherai mi vorrai mi desidererai sempre ora e per sempre a parole andate avanti con parole vostre dicendo a questa persona che sta dentro il barattolo ciò che volete ottenere quando vi sentite carichi l'incantesimo ovviamente chiuso dal tappo voi dovete prendere questo barattolo e dovete andarlo a interrare a seppellire può essere ai piedi di un bell'albero può essere in un giardino può essere in un aiuola può essere in un luogo verde può essere in un luogo che sta sia fuori di casa vostra come anche un po più lontano da casa vostra ma dovete andare con una palettina e affidare questo lavoro facendo una buca a madre terra sempre a madre terra interrate il barattolo incantato del legamento ricoprite di terra coprite per bene vi girate e non ritornate più nel luogo dove avete fatto questo lavoro quindi vi girate tornate per i fasti vostri lasciando la magia lavorare le forze lavorare affinché questa persona rapidissimamente cambi e si appassioni a voi e si leghi a voi è un lavoro molto poderoso quindi non lo fate per giocare fatelo se veramente vi interessa la persona in questione con questo insegnamento con questo lavoro della magia degli zingari in questo barattolo incantato io vi lascio per adesso vi saluto per adesso augurandovi il meglio e ogni cosa positiva ci rivediamo nel prossimo video un bacio alla simonetta